Non ascoltare, io dico bingo e biforcute, gente cattiva, ma voglialo col cuore, preca il pampinello e vedrai che prima di Natale, prima che nasca il pampinello a Pettelè, avrai una bella notizia. Va bene? Un bacio e un abbraccio. Però lo devi volere col cuore. Tutto si ottiene col cuore. Pronto, 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 pronto? Allora, amiche care, il tempo è tiranno. Ricordatevi della mia carta d'oro, ricordatevi che si vince tantissimo, ricordatevi che si può essere felice anche con un ampo, perché c'è stato qualcuno che su un ampo ci ha puntato 100 euro, se un euro sono 250 euro, 235, fatevi il conto, matematica è una scienza perfetta quando si può vincere. Comunque, io non dico i 100 perché qualcuno ha fatto anche questo, ma un euro vi può portare tanto. Ci sono i miei potenti talismani, ci sono i miei cristalli, ci sono dei doni bellissimi che ho preparato per Natale, c'è il mio lavoro, la mia ritualistica, la mia... Se avete pensiero che siete vittime di fatture, di malefici, di malocchio, di cose negative, di tanta bruttura perché il mondo è pieno di gente cattiva, venite da me. Se pensate che il marito vi tradisce, che il finanziato non vi vuole più bene, che la vicina di casa è contro di voi, che non riuscite più a realizzare del lavoro, ma che volete cambiare la vostra vita, Non dovete fare altro che chiamare allo 081-546-1394 oppure 333-66-15626, altrimenti 336-94-552. Telefonate, prendete un appuntamento, Napoli, Salerno, Benevendo, Piazzola di Nord, domani sono tutta la giornata a Salerno, per cui venite e vi aspetto per darvi tanta felicità. E' vero, Antonella, Rosaria, mi raccomando, la tua bella gravidanza, il tuo pimpo, mi rivolgo tanto bene, sta crescendo, com'è bello vedervi felici, vedervi incinte, vedervi che state raggiungendo quella felicità, quell'amore, quella felicità. E per me è importante. Allora, Antonella e Rosaria, un bacio. Pronto, 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 penso che abbiamo un minuto, un minuto, e devo chiudere. Eh? Veloce, in un minuto, in mezzo minuto, non è data. Ciao, buonasera. Buonasera. Perché ho Francesca. Da dove? Da, da una città del testo. Dimmi, Francesca, giorno, mese d'anno? 5, dell'82. Che vuoi sapere, Francesca? Volevo sapere se va tutto bene l'amore tra me e il mio uomo. Francesca? Sì? L'amore non è bello se non è litigarello. Mi raccomando, non fare stupitagini, non ascoltare le gente cattive, perché se è una ragazza piena di odio, piena di invidia, non ascoltare nessuno, difendi quest'amore perché andrà tutto bene. Francesca? Però lo devi difendere bene quest'amore. D'accordo, amore mio? Bacio. Purtroppo il tempo è terminato, io vorrei essere ora insieme a voi, vedete, un'ora è tanto lunga, ma diventa tanto breve. Telefonatemi, fissate gli appuntamenti, io domani sono a Salerno, Benevento, Piazzola di Nora, ci c'è chi è lontano, ce la prassi per posta. Chi non ha preso la linea questa sera, ci sono di nuovo su Telea, lunedì mattina dalle 11 a mezzogiorno, per cui sono pronto. Chi veramente vuole la carda d'oro, comprate il gratte e vinci, giocate, prendete la mia carda d'oro e diventate tutti migliardabili. Dovete avere sempre tanta fede e anche un pizzico di coraggio, perché giocare deve essere un divertimento, un investimento e una fede. Amiche e cari, io vi devo salutare, vi aspetto tutti quanti nei miei studi, un bacio, un arrivederci, a lunedì, bacio a tutti, ciao! Anna, Mariangelo, vi voglio bene, ciao a tutti!